Noi siamo un gruppo di amici tifosissimi della Juventus, abbiamo deciso di formare questo club, Juventus Club Sydney, Toc Club Sydney, dedicato ad Alessandro Del Piero. Ci siamo riuniti qui a Clamarconi perché abbiamo deciso che Clamarconi sarà la nostra sede, poi avremo anche una succursale, probabilmente nella zona della Little Italy, a Laica, siamo oltre 100 soci. Senz'altro farà molto bene per il calcio australiano, ho l'impressione che sia capitato in una squadra un po' debole. Io direi che Del Piero ha già dato al Sydney, darà molto ma ha già dato al Sydney, basta guardare gli abbonamenti che sono andati a Ruba, basta guardare i 35.000 spettatori che c'erano alla seconda partita, alla prima casalinga, basta guardare che moltissime ditte italiane hanno prenotato le corporate box per portare i loro clienti a vedere la partita. quindi le magliette che vanno a Ruba, con l'esperienza che ha accumulato lui, può dare moltissimo alla squadra dal punto di vista tecnico. La regione australia invece di andare, di progredire, secondo me si è fermato, i migliori giocatori sono tutti quanti andati a giocare in Europa.